Buongiorno a tutti ragazzi, ultimo capitolo di Uncharted, oggi la serie finirà e Mr. Allen non smette di rompere perché devo andare a fare un video a casa sua, quindi che se ne vada a fanculo e finiamo il capitolo. Ok io non so proprio come finire il capitolo perché proprio non lo so, non ho un'ipotesi ben chiara, ma so che sarò incostretti a prendere loro, o almeno a vederlo, oh la montagna, già, andiamo, e ci siamo, stiamo giù, ci sarà vero sempre, facile, domani, sbaglio o mi sembra, ho già vista questa parte qua, o sono io che sono rimambito, dai sali su, su, a me è difficile, ecco qua, su, aprigli la fatia borsa, e tu, la pista è giusta, già, si è buttato, ah, dove è andato veramente, dove è andato, è complicata come cosa, è che siamo sulla montagna, aspetta, ma, non è il punto di prima, ma, è il punto di prima, ma, ah no, 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 è un altro punto, perdo, ma beh, tanto vale, e abbiamo superato che vanno di qua, già, posso ancora ucciderti, io, questo non è positivo, ok, dobbiamo arrivare il primo possibile, prima che si ammazzi da solo, invece, comunque, i panno e rami sono fatti davvero bene, niente da lamentarsi, ecco qua, appiglio, appiglio, è da un po' che non usiamo il piccolo alla rossa, che ci sia un indizio qui, invece, no, ecco, un, un mini accampamento, diamo un po', a te impronte, sapevo, per fortuna, c'è che non serve che di qua, di intorno, oh, oh, no, no, ok, luce, va bene, e qua, niente luce, ma, dove, è finito, se, è, è, ma, anche sti ponti pericolanti di merda, un po', non lo risoporto, non è affatto di strada, è, infatti, devo che si è risciato qua, oh, là, un altro po', non è pericolo, bene, ok, ben presso la pista, dove andiamo adesso, già, e adesso, adesso, mi sa che, ah, ecco dove, ok, prendi la, prendi, bravo, che non si sa mai, a volte si aggrappa, a volte no, allora togliamo così, è più facile, certo che è una fatta di strada in così poco tempo, eh, no, non era una buona idea saltare, ma perché stai ancora il robo? va beh, no, 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 perché era buio, non avevo niente, ah, eccolo qua, il piccolo e la roccia, il piccolo, come si chiama, ho trovato di voi un nome, ma no, così, e, fatto, fatto, è più difficile di quanto sempre, figlio, che urnazzo che ha tirato, ok, quando è che posi la mano, quando è che metti la mano, dai, dove, e dove? e dove è che dovrei andare? oh, non lo so, oh, ditemi voi, eh, io ho paura di sfercellarmi, ce la posso fare, merda, ok, non ho la minima idea di come, di dove si vada, andiamo giù, dobbiamo dondolare il più possibile, al massimo usi la piglio, ce la posso fare, oh, merda, che faccio, oh, oh, merda, va sempre merda, eca, merda, ok, ok, esatto, non so neanche io come, devo usare la piglio, che cavolo, che cavolo, ma però la nascosta bene, piccone da roccia, il più, migliore amico dell'uomo, fatto, migliore amico del uomo, il piccone da roccia, compralo anche tu, pubblicità abusiva, come noi raggiungiamo la nave, è un po', come dire, wow, un po' grande, grande, ma quella là, la c'è il tesoro di libertaglia, o della gunsway, spero in grambi così, non serve che facciamo due giri, immagino sia ora di scendere, immagino anch'io, e però grattano ste rocce, questa è roccia, questa è roccia, oh che cavolo è sta roba, che con tutte si è scivolata, che mi ricorda, che cavolo è sta roba, un po' esagerato, vediamo, ecco, abbiamo ingrattato come, l'acqua è bella limpida, no, va bene, tanto va a riprovare, abbiamo provato, e non c'è niente, di qua, no, neanche di qua, troviamo un passaggio, io potrei andare di là, aspettate, io sono arrivato da là, o da dove, la cosa positiva è che, ah sì sì, di qua, di qua, ah, meglio ancora, tesoro, un, cos'è, una mini scatola, dove avete uscito qua, oh ce ne deve essere una, almeno, se non di più, o sto girando, ma sto girando a vuoto, non so dove andare, come permettate il tempo in sto gioco, non so dove andare, e allora, ci siamo già passati di qua, no, allora, sul fondo, non credo, no, infatti, forse sì, aspettate, che mi sa che dobbiamo andare sul fondo, eccolo, eccolo, la, l'acqua ho detto io, vabbè, in fondo, facciamo anche, anche se assuma, di qua, e un altro, piccolo secco, su, dove saliamo qua, mi sa che era vuoto, che cazzo, ci rampichiamo sullo stalag, sullo stalag, mitte, ho avuto problemi, a riconoscerlo, però c'è, già era vuoto mezz'ora in sto stanza, non è che sia bellissimo, oh, oh, Mario, ti sei incantato? oh, ah, questo è nuovo, non era lo stesso, oh, cazzo, l'ho già trovato, non possiamo scuscomare, chi è? Sam? oh, ah, ok, lascialo andare, ah, il traguardo è letteralmente in vista, è là, è là, è là, è là, io non salgo sulla sua nave, da bene, non capisci che se non io, la morte dei tuoi uomini, tutti i nostri spazi, saranno inutili, quasi, ma anche andiamo valentieri, portarlo a casa di più può bastare, da punto, se quanti ce ne sono, ooo, no, 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 qua scatta un grissone, che, lui si è da le treppole, come se l'è meritato, ma non se l'è meritato neanche lui, allora senti, all'opera le braccia che hai tu, con un pugno, infatti, come ho detto io, con un pugno ti può ammazzare, cioè con un pugno ti ammazza, con le prossime tre vite, perché? io vi ho pagati, voi fate quello che vi dico io, esatto, giusto, allora, io vorrei che scattasse un corso, così, che scattasse un grissone, così siamo tornati in un grampino, quindi prendiamo il tesore, scappiamo, silenziosamente, paura adesso, sento che è tradita da questi stessi mercenari, che storia di merda, e andiamo sul coso, abbiamo due mercenari, ma contro, per fortuna, ok, come si esce da qua? ah, così, facile, di nuovo, e su, dove è la nave? dove? mi sa che ha messo qualcosa, tipo, a 22, ah, ho sbagliato io, scusate, va bene, pensavo fosse l'ultimo, va bene, se non sarà l'ultimo, va bene, questo cosa finiamo qua, ma faremo subito un altro, per, proprio, per finirlo, va bene, arrivederci, a